buongiorno oggi preparerò una frittata di carciofi e piselli ho messo nella mia padella i carciofi e i piselli metto a cuocere con un po di acqua e lascio cuocere con il mio coperchio 35 mg che lascio cuocere per circa cinque minuti tra cinque minuti controllo la cottura e vedremo come sarà sono passati cinque minuti vado a controllare a che punto sono i carciofi e piselli e c'è ancora molta acqua quindi lascio cuocere altri cinque minuti in maniera tale che si asciughi tutta l'acqua e i carciofi siano cotti alla perfezione e poi metterò l'uovo il coperchio e aspetto cinque minuti sono passati cinque minuti apre il coperchio controllo sia i carciofi che i piselli sono ben corti sono già metto un filo di olio e vado a mettere l'uovo sbattuto per fare la mia frittata ricopro e aspetto due minuti il tempo di cottura della frittata la mia frittata di carciofi e piselli è pronta grazie a magic cooker vi ricordo di iscrivervi al canale magic cooker sicilia e oltre e lasciate un mi piace se vi va a questa mia ricetta grazie alla prossima video ricetta ciao ciao